Ho parlato di cose che riguardano anche la vita, il fare arte, la passione che ci lega, che mi lega anche a questo fare arte, ma c'è una cosa che io ritengo molto importante, è un'attenzione particolare ai bambini. Perché se ripenso a quando tutto ha avuto inizio per me, questa passione per l'arte, devo ritornare molto indietro nel tempo, proprio all'infanzia, l'attrazione per dei giochi di un certo tipo. Li chiamo giochi perché per un bambino tutto è un gioco e vive anche malvolentieri le cose che non rientrano in questa dimensione del gioco. Le cose che fa più volentieri appartengono alla sfera del gioco. Però ci sono giochi e giochi. Spesso coloro che poi seguiranno la strada dell'arte sono attratti da alcuni giochi. Dei giochi creativi, dei giochi dove si può esprimere la fantasia, si può esprimere l'immaginazione. Allora pensiamo al disegno, pensiamo a cose semplici che si possono fare modellando o componendo con diversi oggetti. Ma non c'è neanche bisogno di sforzarsi, basta guardare i bambini, basta guardare come sono creativi e come la fantasia va oltre il pensiero, ma fluisce spontaneamente. E quanto è importante che abbiano gli strumenti. Gli strumenti possono essere anche poveri, possono essere semplici, ma che abbiano le condizioni favorevoli per assecondare questa loro attitudine, questo loro interesse. E quanto è bello vedere i bambini creare, a modo loro, opere che sono già opere d'arte. E vorrei veramente che, ripensando alla mia infanzia, sicuramente ci sono stati fatti tanti miglioramenti, però non vale ovunque nel mondo. Ci sono ancora dei territori popoli che vivono una mancanza di libertà e di strumenti che consentono lo sviluppo di questa libertà, di questa creatività, dove al contrario viene repressa, viene impedita questa libertà di creare, la libertà di far volare la fantasia, l'immaginazione. E purtroppo quando viene repressa la creatività, l'immaginazione, la fantasia, poi nasce un altro sentimento che è la rabbia. Quando qualcosa, qualcuno viene compresso, viene costretto, si scatena una frustrazione che diventa rabbia. E la rabbia poi si tramuta in violenza. Non è più la forza creativa, ma è la forza distruttiva. Purtroppo è visibile attorno a noi. Abbiamo tantissimi esempi. Se invece noi consentiamo ai bambini di liberare queste forze creative, sapranno gestire meglio anche la rabbia quando ci sarà, quando verrà anche la rabbia. Ma io purtroppo ho visto, ho visto violenza, rabbia verbale o fisica, e l'ho letta come l'altro lato della medaglia della creatività. Quando la creatività non si può liberare, diventa distruttività. E' qualcosa che va capito, secondo me, e a cui va data la giusta importanza. non serve molto, non è che servono chissà quali mezzi, serve semplicemente capire l'importanza della fantasia, della creatività, dell'immaginazione, perché è una componente umana determinante per il futuro, per donne, uomini, per la società. E questo è soprattutto quello che io vedo attorno a me e che vorrei dire come un fattore di grande importanza, che non va trascurato. Lo possono fare sicuramente i primi, sono i genitori, poi sono gli educatori, gli insegnanti, gli amici, gli adulti. Perché in fondo anche i bambini sono tutti i nostri figli, non solo quelli che abbiamo generato noi. e abbiamo la responsabilità di essere degli esempi, di essere degli educatori, questo nei confronti di tutti i bambini. Quindi è importante per il benessere mentale, spirituale, emotivo dei bambini la fantasia, la creatività. È un cibo che nutre l'anima, che nutre il cuore, che fa star bene e fa star bene anche migliora la società quando i bambini stanno bene, quando diventeranno poi degli adulti felici. Questo è il mio pensiero. grazie a tutti i bambini